salve a tutti ragazzi e bentrovati qui sul mio canale un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole joe wolf di quartiere la settimana scorsa avevo indetto un sondaggio sul mio profilo instagram in cui vi dicevo appunto che avrei rifatto il rewatch di tutti i film dedicati a spider-man dal 2002 ad oggi e poi vi ho chiesto se preferivate una monografia o una tier list ha vinto la tier list e quindi eccoci qui oggi vi mostrerò la mia tier list dedicata ai film di spider-man un po di avvertenza all'inizio allora ovviamente io terrò conto del lato tecnico dei film della trama del modo ovviamente di raccontare la storia dei personaggi e anche delle prove attoriali perché di film stiamo parlando però ovviamente io ve lo dico subito spider-man è il mio supereroe preferito sin da quando ero piccolo ho gli armadi pieni gli armadi gli scaffali pieni di fumetti di spider-man quindi i miei giudizi saranno oltre che di testa anche di cuore ovviamente cercherò di essere oggettivo il più possibile non vi preoccupate perché ovviamente anch'io le mie preferenze molto spesso mi sono scontrato con altre persone sui film di spider-man tra quali erano i migliori secondo me o i peggiori e poi oggettivamente quando erano migliori ora senza perdere altro tempo io direi di cominciare subito allora il primo spider-man del 2002 è un film al quale io sono legato in maniera viscerale proprio perché è stato il primo film tra l'altro che io ho visto al cinema mi ci portò a mio padre non avevo ancora cinque anni compiuti perché era giugno in america è uscita a maggio in italia è arrivata a giugno io avrei compiuto cinque anni a settembre ovviamente all'epoca non è che ci capissi tanto di tutto il sottotesto della trama mi importava che ci fosse spider-man e si menasse col cattivo grandissimo green goblin di willem defoe poi ovviamente crescendo ho visto anche in tutti gli film tutti i messaggi nascosti eccetera comunque alla luce di tutto questo e sottolineando il valore registico e come opera del primo spider-man di sam raimi io lo metto immediatamente nei masterpiece nei capolavori perché chi dice il contrario oggettivamente non capisce nulla perché il primo spider-man di raimi è un vero e proprio capolavoro ancora oggi forse lo possiamo considerare la miglior trasposizione mai fatta di un fumetto marvel e fra le migliori in assoluto sui supereroi e fra i migliori cine fumetti della storia del cinema ancora oggi non è invecchiato neanche di un giorno sempre attuale ha preso in pieno lo spirito di spider-man poi ovviamente raimi nella sua trilogia si è ispirato più che altro alle storie di spider-man degli anni 70 80 quindi il periodo di stan lee e john romita senior e si vede benissimo che grandissima prova attoriale di tutti toby mcguire era fantastico king stand dust a fare mj il grandissimo william defoe nel ruolo del green goblin che ancora oggi è il mio cattivo dei fumetti preferito goblin e anche per quanto riguarda i cine fumetti il mio cattivo preferito cioè io ancora oggi ho paura di green goblin ok quindi questo l'abbiamo piazzato nei masterpiece poi passano due anni raimi gira sull'onda del successo di spider-man spider-man 2 qui il cattivo è il dottor octo octavius il dottor octopus interpretato da un grandissimo alfred molina il film si conferma un capolavoro come il primo spider-man ovviamente secondo me spider-man 2 è superiore per molte cose al primo spider-man ma il primo spider-man resta il mio film di supereroi preferito e anche il mio film preferito su spider-man poi oggettivamente spider-man 2 è superiore al primo spider-man il dottor octopius era un cattivo molto molto più dettagliato rispetto a green goblin ma un cattivo proprio gotico di un frankensteiniano assurdo e che si avvicinava molto anche a icaro della mitologia greca non a caso il dottor octopius voleva creare una sorta di sole artificiale che poi ovviamente creerà un sacco di danni a new york un po richiamare anche icaro che si avvicina troppo al sole e poi fallisce ovviamente credo che l'abbiate visto tutti spider-man 2 sappiate quanto è fantastico se nel primo spider-man c'era l'iconica scena del bacio a testa in giù qui abbiamo l'iconica scena ripresa da the amazing spider-man numero 50 in cui peter parker stressato dalla vita da supereroe abbandona nel bidone della spazzatura il costume da spider-man tenterà di vivere una vita normale non ci riuscirà perché capirà come già detto nel primo film come gli aveva lasciato come insegnamento che gli aveva lasciato zio ben prima di morire da un grande potere derivano grandi responsabilità e quindi spider-man 2 si conferma un grandissimo capolavoro poi passano tre anni raimi gira spider-man 3 non senza troppe difficoltà infatti mettiamo subito le mani avanti spider-man 3 non è un capolavoro come spider-man e spider-man 2 diciamo che ne uscì fuori una sceneggiatura molto pasticciata perché raimi voleva mettere come cattivi il new goblin ovvero eri osborne che vuole vendicare il padre e l'uomo sabbia lo costrinsero a metterci anche venom raimi però secondo me ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il peter parker con il costume nero quindi black spider-man che diciamo si allontana dal suo senso di giustizia e responsabilità e diventa quasi un cattivo più che un supereroe si allontana proprio dagli insegnamenti di zio ben finché non capirà che il costume nero questo organismo questo simbionte extraterrestre lo sta portando verso la pazzia e a trasformarsi in tutto quello che lui ha cercato sempre di combattere poi si vede benissimo che venom raimi lo ha inserito all'ultimo momento cioè proprio evidente lo hanno costretto a mettercelo e quella è stata una causa dell'insuccesso del film ah sì se sentite un uccello alle mie spalle perché io ho una rondine che vive dentro la serranda di camera mia della camera mia allora quindi detto questo secondo me raimi ha fatto un ottimo lavoro con il personaggio dell'uomo sabbia con il peter tormentato che prima è buono poi diventa cattivo poi capisce i suoi errori si riconcilia anche con mj alla fine anche la morte di harry osborne molto molto bella molto poetica estruggente pessimo lavoro però per quanto riguarda diciamo un po la parte centrale del film e la gestione di venom però tutto sommato per me non è un brutto film spider man 3 del 2007 quindi non è un capolavoro assolutamente non mi sento di metterlo in amazing perché non è stupefacente non è un grande film ma per me è un film decente su spider man e quindi lo mettiamo qui sottolineando ancora una volta che per me non è un brutto film comunque però è un film che ovviamente ha dei problemi accanto ovviamente a un ottima regia di raimi perché anche quando sei un grande regista come sam raimi anche il tuo film più brutto più brutto fra virgolette vive di schegge e qui di schegge positive in questo film ci sono visto che spider man 3 non aveva raggiunto il successo sperato per quanto riguarda l'accoglienza del pubblico e della critica che comunque lodò la regia di raimi nel 2012 invece che realizzare spider man 4 si optò per un reboot quindi un riavvio del personaggio e qui vediamo andrew garfield in the amazing spider man del 2012 interpretare appunto l'uomo ragno il cattivo è il dottor connor's lizard che diventa appunto lizard la lucertola umanoide uno dei primi cattivi di spider man tra l'altro introdotto da stanley e steve ditco al posto di mj troviamo gwen stacy che nei fumetti è il primo vero amore di peter parker interpretata da una eccezionale emma stone veramente secondo me quello ancora oggi è il ruolo della vita di emma stone ed era straordinaria la chimica che aveva con andrew garfield kirsten dust e topi e guagliere ho detto straordinari ma diciamo che come coppia preferisco andrew garfield ed emma stone quindi the amazing spider man è superiore a spider man 3 oggettivamente è superiore molto superiore e nonostante io non abbia apprezzato le scene in cui diciamo peter acquisisce poteri secondo me è un ottimo film cioè un buon film film fatto di cuore mark webb si è rivelato fan del personaggio così come andrew garfield che era anche grande fan dei film degli spider man di raimi e allora diciamo un po che poi vabbè sottolineiamo che invece di ispirarsi ai fumetti classici qui webb si è voluto ispirare diciamo alla versione ultimate del personaggio quindi un universo alternativo a quello classico e si vede benissimo e questa atmosfera che si mischia un po le atmosfera la david kronenberg si si percepisce molto quindi per me the amazing spider man è un film molto molto bello riuscito da che ne dicano i suoi detrattori non è assolutamente un film inutile per me un ottimo film di origini non si avvicina allo spider man di sam raimi ma secondo me allora non non so se piazzarlo in the amazing sarebbe proprio cioè the amazing in the amazing o in grit però sì dai mettiamolo in amazing di amazing spider man secondo me ci sta bene qua non è un film stupefacente sì lo è dai passano due anni seguito 2014 di amazing spider man 2 il potere di electro un film che ha molti 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 problemi che già avevamo visto anche nello spider man 3 quindi webb ricade nella rete passatemi il termine in cui era caduto raimi solo che raimi ovviamente ha molto più talento di mark webb e queste cose le riuscite a gestire meglio mark webb no come cattivo abbiamo electro interpretato da jamie fox con un design orribile poi abbiamo henry osborne che diventa green goblin prima del padre norman che apparentemente muore poi un paul giamatti messo a caso alla fine a fare un rhino indecente nonostante questo però e nonostante secondo me webb si sia soffermato molto troppo sul lato romance non mi sento di bocciare del tutto il film perché diciamocelo la chimica fa emma stone andrew garfield sottolineo ancora una volta era straordinaria la scena della morte di gwen identica identica quasi in tutto e per tutto se non per il fatto che il goblin nei fumetti era norman e non eri riuscita alla grande ma di un'intensità assurda con la ragnatela che diventa manina quasi come fosse una vignetta di un fumetto quindi per me non è un film terribile come dicono molti è un film decente lo metto accanto a spider man 3 che non è un grande film non è neanche fantastico secondo me e non è assolutamente un capolavoro ma a quelle schegge come aveva spider man 3 che non me lo fanno bocciare del tutto anche se secondo me rimane un'occasione persa sotto molti punti di vista visto l'insuccesso di the amazing spider man 2 la sony fa un accordo con i marvel studios che stavano sviluppando sempre di più il marvel cinematic universe in quegli anni in modo da far interagire il personaggio di spider man riavviandolo nuovamente con gli avengers tom holland il nuovo spider man esordisce in civil war nel 2016 nel 2017 a fa il suo esordio in film solista con spider man homecoming quindi ben tornato a casa spider man con michael keaton nel ruolo del cattivo che fa appunto michael keaton nel ruolo dell'avvoltoio anche questo uno dei primi cattivi di spider man michael keaton che aveva fatto anche un grandissimo batman nei capolavori batman di barton e solo che sinceramente a me il film questo qua deluso un pochino mi aspettavo molto di più il film parte holland che mi piace molto come spider man ned leeds che sostituisce harry osborne un'ottima spalla comica poi c'era questo diciamo rapporto padre figlio fra tony stark e spider man che molti odiano ma a me sinceramente è piaciuto e per il resto vabbè esordisce la mj di zendaya che diventerà il nuovo amore di spider man che i registi hanno detto che è un omaggio alla mj dei fumetti si vabbè è mary jane con un nome diverso con la sigla uguale mj solo che cambia diciamo non è proprio identica a quella dei fumetti ma con molti è molto più vicino al carattere della mj dei fumetti rispetto a kiss and dust quindi io lo piazzerei qua vicino homecoming perché nonostante questi aspetti positivi secondo me sembra l'episodio pilota di una serie televisiva quindi come film di origini preferisco ovviamente sempre il primo di raimi ma questo qui di amazing spider man anche questi due di origini sono fatti molto meglio quello di raimi una marcia avanti qui hanno scelto di non mostrarci di nuovo le origini di spider man anche perché le abbiamo viste già un sacco di volte e andiamo avanti nel 2018 la sony lancia questo film d'animazione spider man un nuovo universo ispirato alla saga del ragno verso qui il protagonista non è peter parker ma è miles morales un ragazzo di colore che eredita appunto da peter parker che nel suo universo muore il manto di spider man anche lui è stato morso dallo stesso ragno di peter io pensavo che fosse un film d'animazione della sony semplicemente per lucrare sul personaggio di spider man invece si è rivelato un vero e proprio capolavoro e infatti qua lo piazziamo infatti questi tre questa è la trinità dei migliori film di spider man spider man un nuovo universo è un vero e proprio capolavoro dal punto di vista della trama registico innovativo dal punto di vista dell'animazione miles morales già nei fumetti era una delle migliori creazioni degli ultimi anni della marvel nel film è straordinario ma è bellissimo anche vedere tutti gli spider man degli altri universi vediamo il peter parker invecchiato che è quello dell'universo classico il peter parker dell'universo di miles che muore da grande eroe lo spider man noir che vede solo in bianco e nero che è geniale la ragazzina giapponese con il mecia ragno poi abbiamo spider ham il ragno che diventa un maiale umanoide con i poteri del ragno e poi abbiamo la spider woman spider gwen quindi c'è un universo in cui non non è gwen stesi a morire come moriva in the amazing spider man 2 ma è peter parker con gwen che è spider woman ed è anche lei una delle migliori creazioni degli ultimi anni dei fumetti marvel quindi spider man un nuovo universo mi sorprese tantissimo in positivo è un film straordinario che pur non prendendosi sul serio molte volte riesce a far passare dei messaggi bellissimi come quello della famiglia della morte l'eroismo fa capire è un film che fa capire cos'è che rende il personaggio di spider man diverso da tutti gli altri personaggi dei fumetti e da tutti gli altri supereroi e ti fa capire perché spider man è il più grande supereroe che sia mai stato creato e che potrebbe essere chiunque indipendentemente dalla propria etnia sì questo sottolineo spesso a differenza di molti altri personaggi che vengono cambiati a causa del politicamente corretto degli ultimi anni spider man per me se fosse bianco nero cinese indiano nigeriano indonesiano non cambierebbe nulla spider man è una vera e propria icona di antirazzismo e spider man un nuovo universo ce l'ha dimostrato con miles morales che è un personaggio straordinario 2019 dopo avengers endgame arriva il sequel di spider man homecoming che vediamo qui fra i cattivi misterio interpretato da jack gillenor molto superiore ad homecoming secondo me ma non arriva di amazing non arriva di amazing secondo me nonostante mi sia piaciuta anche la tematica del film che criticava molto le fake news un fenomeno molto diffuso soprattutto negli ultimi anni quindi vediamo anche spider man che capisce che lui non deve essere un nuovo iron man ma prendere l'eredità di iron man e farne una cosa personale diventare qualcosa di originale lo metto qui in grit perché secondo me non arriva a livello di amazing di amazing spider man secondo me ma è molto bello il viaggio personale che peter parker inizia ad intraprendere ed è molto superiore anche ad homecoming tra l'altro dicevo il fatto che sensibilizza sul fatto delle fake news spider man nei fumetti è sempre stato un personaggio che ha sensibilizzato molto sulle tematiche sociali e civili come la lotta alla droga la lotta studentesca si criticava molto il sistema economico americano quindi in spider man 2 ritorno qui raimi criticava il sistema bancario americano molto molto ferocemente in una scena determinata scena qui si criticano le fake news quindi secondo me far from home in grit ci sta tutto ok concludiamo spider man no way home uscito l'anno scorso tanto è stato detto tanto si dice ancora di questo film c'è chi pensa che sia la fine del cinema c'è chi dice che sia un capolavoro c'è chi dice che è un film che non può essere giudicato come vengono giudicati tutti gli altri film e c'è chi dice addirittura che non è un film ma una giostra io vi posso dire che questo film che ha riunito tre generazioni di spider man mi ha toccato il cuore come non succedeva da tanto questo film riportò al pubblico in sala ma proprio tantissimo pubblico dopo il periodo nero del covid come gli altri film usciti sempre dopo la pandemia non erano riusciti a fare ha creato un'esperienza collettiva del pubblico sia con la campagna marketing che durante la visione del film soprattutto durante la visione del film eravamo tutti emozionati tutti applaudivamo tutti eravamo contenti dall'inizio alla fine è un film che parla al cuore dei fan al bambino che è dentro di noi e anche questo ci fa capire cosa distingue spider man da tutti gli altri personaggi da tutti gli altri eroi è un pubblico in sala che applaudiva dall'inizio alla fine e si alzava anche alla fine del film contento per ciò che stava vedendo io l'ho visto in poche occasioni da quando vado al cinema l'ho visto col primo spider man di raimi con il signore degli anelli ritorno del re shrek 2 anche il cavaliere oscuro di nolan l'ho visto con avatar harry potter i doni della morte parte 2 e poi questa cosa non è più successa hanno anche avengers endgame scusate assolutamente e dopo questa cosa dopo un anno e mezzo buio di covid non è più successa finché non è uscito questo film che io metto in masterpiece poi potete criticarmi quanto volete ma io qua lo piazzo quindi ragazzi questa era la mia tier list dei film dedicati a spider man vi ho detto le mie spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuta questa tier list forse ne farò anche altre anzi ne ho già in programma qualcun'altra detto questo io vi saluto vi abbraccio vi abbraccio fortissimo grazie per avermi seguito per avermi ascoltato e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao